Emanuele Calaiò Magari affiancato da due centrocampisti offensivi, Rosina a destra e uno fra Castro e Martigno sulla fascia sinistra, ritornando di fatto al 4-3-3 che muta spesso in un 4-3-2-1, il classico albero di Natale che in teoria aiuta a non intasare la metà campo avversaria. Sono solo ipotesi. A Torre del Grifo intanto, Marcolin si consulta costantemente con il suo vice Annoni, anche perché a Pescara tatticamente non tutto ha funzionato a dovere. Verifiche e confronti anche con il preparatore atletico Ventrone, anche per spiegare il calo fisico di alcuni nuovi arrivati, come Mazzotta per esempio. Confronti costanti anche con l'equipe medica, alcuni giocatori rosso-azzurri sono stati debilitati in settimana dall'influenza. Il Frosinone è una squadra rognosa, come la maggior parte del torneo cadetto, e quindi la gara di sabato pomeriggio va preparata nei minimi particolari. A dirigere Catania Frosinone è stato designato l'arbitro Pasqua di Tivoli, che ha già diretto il derby di Trapani, finito 2-2. Pasqua sarà coadiuvato da Del Giovane e Avellano.